Bene, allora io introduco con un tocco di autoironia da padrone di casa. È una bellissima casa per certi versi, almeno, e quindi sono abbastanza orgoglioso di accogliervi e di darvi il benvenuto. Ovviamente, come sapete, questo spazio fa parte di una rete che Pala Expo, per conto del Comune dell'Assessorato della Cultura, gestisce. Una rete di cui è parte anche Palazzo delle Esposizioni, ovviamente anche il Magro di Vianizza e anche la Pelanda che ha le nostre spalle, l'edificio che ha le nostre spalle. L'obiettivo, lasciatemelo dire, è quello di rendere questa rete di spazi un sistema integrato di produzione, presentazione, promozione di cultura e di ricerca artistica. Naturalmente il progetto sta ancora ingranando, quindi siamo chiaramente in una fase ancora sperimentale. All'interno, diciamo, di questo periodo di adattamento e trasformazione, è stato molto bello accogliere questa proposta di questa mostra, una proposta fatta da due vecchi amici, se lo posso dire, oltre che illustri nel loro campo, che è il nostro, che è anche il mio. E quindi, insomma, è stata veramente una bella occasione di incontro e per me è stato, come ho scritto, poi in quel breve testo che ho dato per il catalogo, l'occasione per riflettere sul lavoro di un artista che conosco dal 1989, cioè da quando ci incontrammo alla Galleria Alice di Domenico Nardone, esperienza pilota, un po' eterodossa, anche nel suo coraggio, in cui però abbiamo, diciamo, condiviso parecchi pomeriggi e in cui credo che Sergio abbia fatto la sua prima mostra in assoluto, la sua prima mostra personale, e quindi da allora ci conosciamo, però effettivamente non avevo mai avuto modo di riflettere approfonditamente sul suo lavoro, soprattutto alla luce, chiaramente, dei 30 anni che sono passati da allora. E' stato, insomma, anche per me bello farlo, sono contento che, come dire, il testo sia stato accolto, addirittura Laura Corbini lo ha citato nel suo testo, sullo stesso catalogo, e quindi per me, figurati. E niente, basta, io dico solo questo, partecipo poi volentieri al dialogo, però ho preso per ora la parola, soltanto appunto per dare il benvenuto, per dire che è una gioia personale anche, chiaramente, accogliere questa mostra e accogliere tutti voi, appunto, molti dei quali sono in effetti amici di vecchia data qui dentro. E quindi passo la parola a Laura. Grazie Cesare. Direi che magari io, Sergio, visto che è una presentazione, è il finissage della mostra, ma anche una presentazione del catalogo, magari io, Sergio e l'editore parliamo verso la fine, come parte in causa. Passiamo invece la parola agli amici, che ringrazio molto di essere qui, però voglio dire prima una piccola cosa. Voglio chiedere a Cesare di portare i nostri complimenti e i nostri auguri a Lucia, alla figlia dei nostri vecchi amici Cesare e Caroline, perché Lucia Pietro Giusti è giovanissima curatrice, è la curatrice del padiglione che ha vinto il leone d'oro per il padiglione alla Biennale di Venezia, cioè il padiglione della Lituania. Quindi questa cosa mi ha fatto un immenso piacere. Io ho conosciuto Lucia che aveva due anni e mezzo e mi disse, me lo ricorderò tutta la vita, io ti vorrei far ascoltare un disco di Catarina Frisch. Questo fu l'inizio, a due anni e mezzo, e mise un disco bellissimo di un'opera sonora di Catarina Frisch dove si sentiva solo il rumore della pioggia. Esatto. Eravamo nella vecchia casa di Cesare di Via Peretti, a Trasteve. Ma infatti ormai Cesare è il padre di... Il padre è il padre di Lucia, ovviamente. Ecco, ormai basta, finito, chiuso. Beh, adesso chiudiamo l'argomento. Invece vorrei dire a Nicola Di Battista se può aprire la serie degli interventi. Magari anche... Poi Nicola ha un vecchio rapporto con Sergio e, tra l'altro, credo che magari ci possa dare anche delle indicazioni sia in generale sul lavoro di Sergio che anche per quello che riguarda questa mostra relativamente anche proprio al rapporto che è forte, secondo me, di Sergio con l'architettura e con lo spazio. Sì, grazie, Laura. Scusate, io sono semplicemente un architetto e quindi un po' un intruso questa sera. Ma devo dire che invidio molto il lavoro di Sergio perché non considerate questa un'eresia ma lo trovo molto tettonico. Magari è uno che per mettere i suoi quadri usa dei tondini da costruzione e non li usa formalmente. mette in forma anche l'allestimento. Quindi vedere in questo spazio una mostra, un lavoro di questo tipo davvero riempie un po' l'anima. Nel catalogo mi sono assegnato soltanto un paio di cose. A un certo punto Pietro Giusti nel parlare del lavoro di Sergio dice raffinato, colto e promettente. Parlava della mostra del novello. Allora, siamo promettente perché non funziona più. Però raffinato e colto funziona ancora oggi. Io aggiungerei un'altra parola. Sergio per me è una persona per bene. Mi affascina la persona. Sergio Saro non è lo stereotipo dell'artista. C'è una persona sempre a point, direi. Che tiene anche a questa sua perbenitudine. Ed è un fatto strutturale. Questo ha a che fare con il suo lavoro, secondo me. Io credo dal mio punto di vista di architetto che è una qualità che io trovo nel lavoro di Sergio e questo lavorare sullo spazio che vuol dire anche questo lavorare sull'abitare. Ma non l'abitare nel senso architettonico. L'abitare nel senso dell'abitare. L'abitare, tutti noi abitiamo in quanto persone che vivono. E questo abitare è qualcosa che abbiamo cominciato a perdere. Nel momento in cui abbiamo cominciato a perdere proprio il concetto dell'abitare siamo diventati... Non siamo più di un luogo, non siamo più di un posto, non siamo più quasi niente. È come se noi potessimo rizomaticamente stare dappertutto. Questo è vero, ma non è proprio troppo vero. Invece questa è... un'idea che dovremmo di nuovo dai cittadini frequentare è questo tema di che cosa vuol dire abitare. Che cosa vuol dire abitare questa terra. E ha a che fare poi anche con un tema sempre... Io, dopo le cose che vi ho detto con l'arte, ho capito che non capivo più niente fin negli anni Ottanta, quando un architetto diventato poi molto famoso a Barcellona anziché fare un'architettura fa una forma, diciamo qualcosa a forma di pesce. Architetto. È un artista in Olanda fa una scultura usando mattoni e facendo dei muri. Parlo di Frank Gehry a Barcellona e parlo di Kirkby in Olanda. Allora ho capito in quel momento che non capivo più niente. C'era qualcosa che non andava. Poi c'è stato diciamo anche da parte mia molto lavoro anche sul senso del mio mestiere, del mio lavoro. Quello dell'architetto che credo che sia oggi uno dei mestieri più misconosciuti e inconsapevoli. Oramai fare un'architettura sembra fare una cosa strana. Se non è strana non è architettura ma il discorso è molto lontano. Riportandolo invece al lavoro di Sergio io credo ho sempre frequentato anche quando non ci siamo frequentati il suo lavoro da lontano perché è un lavoro il cui risultato mi affascina e mi affascina il fatto che non riesco a capire perché mi affascina però mi affascina e mi affascina proprio quello che io poi mi sono sforzato di definire nel mio lavoro quello che io chiamo il rapporto tra contenuto e forma e da quel tempo in cui Gheri faceva un pesce e Kirchepi faceva un muro ho cominciato un po' a interrogarmi ma qual è il rapporto tra un contenuto e una forma in fondo diciamo questi due mestieri quello dell'arte e quello dell'architettura potrebbero somigliarsi fino a un certo punto perché come d'altronde molti dei mestieri dei lavori che noi facciamo si tratta sempre di definire un contenuto e di trasfigurarlo in forma più o meno poi le cose sono più complesse e allora mi sono chiesto anche qual è la differenza tra il lavoro di un architetto e il lavoro di un artista ecco io credo che l'architetto non è completamente libero con il suo lavoro l'architetto una casa è una casa potete fare quello che volete potete farla anche strana e più la fate strana e meno è una casa e quindi una casa è una casa e quindi l'architetto direi che non è completamente libero nel proprio lavoro come lo è l'artista perché l'artista è responsabile lui è responsabile personalmente del suo lavoro lui è solo di fronte al suo lavoro l'architetto no quindi mentre il contenuto bisognerebbe vietare agli architetti di definire il contenuto del proprio lavoro perché non appartiene loro l'architetto non fa una casa per sé l'architetto fa una casa per qualcuno che la deve abitare quindi immaginate come è sbagliato definire questo contenuto l'artista no l'artista decide l'artista decide qual è il contenuto e poi lo trasfigura in forma ecco io non mi addentro dentro chiaramente le questioni dell'arte ma i suoi lavori mi affascano i suoi lavori incredibilmente riescono a creare spazio intorno e questo quindi mi fa un po' invidia come lo si possa fare dal punto di vista dell'arte credo che la cosa che invidio di più agli amici artisti sia proprio sia proprio questo e tanto più lo fa il suo lavoro che apparentemente invece come dire sembrerebbe un lavoro difficilmente ascrivibile ci sono altri lavori di altri artisti che sembrerebbero più vicini al mondo invece io credo che il suo ci porta in dei mondi in un immaginario in una storia che non comprendiamo ma che capiamo che c'è ho letto anche un po' sul catalogo cercando alcune considerazioni che voi che voi avete fatte anche il parallelo con cui Laura comincia parlando di Boyce mi piacerebbe parlarne però credo che sia quella un po' la 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 questione quindi per me il lavoro di un artista che riesce a riempire uno spazio a tenere uno spazio ecco vuol dire che ha una qualità una qualità formale vuol dire che questa trasfigurazione in forma pittorica in questo caso riesce ad esprimere un contenuto un contenuto che in questo momento ci manca in generale come cittadini come persone che viviamo questo tempo attuale oggi non sappiamo più non vogliamo più pensare c'è la parola futura è diventata una parola cioè che nessuno sa più bene che cos'è non riusciamo più neanche a immaginare questa idea di futuro ecco io credo che questi lavori invece attraverso l'immaginazione ci portino verso un possibile futuro per questo Sergio ti ringrazio ringrazio molto Nicola Di Battista perché è stato veramente insomma un intervento il taglio dell'intervento è stato molto interessante penso tra l'altro che questa mostra rispecchi proprio questa cosa che lui ha detto cioè che il lavoro di Sergio riesce a creare spazio e credo che questo tra l'altro appunto grazie Sergio in questa mostra ha adottato come dire un allestimento molto particolare nel senso che questo spazio è molto grande e induce chi ci lavora al gigantismo spesso no cioè a gareggiare con lo spazio a cercare un grande ingombro per poterlo riempire eccetera in realtà Sergio ha fatto il vuoto diciamo adesso qua il vuoto non c'è perché ci siamo noi con le sedie qua al centro però Sergio qui ha fatto proprio il vuoto e ha sospinto per non dire respinto diciamo sospinto le opere ai bordi ai limiti ai confini dello spazio però e peraltro opere anche non gigantesche alcuni quadri guardiamo questa parete per esempio non sono di grandi dimensioni e però indubbiamente ha creato uno spazio l'ha creato anche con i lavori di piccole dimensioni con il modo di appenderli che Nicola ha notato con i tavoli che è una caratteristica anche del lavoro di Sergio che è un modo anche di porgere il lavoro sì io nel testo ho fatto qualche richiamo ad artisti che hanno lavorato sul tavolo diciamo il mio testo su Sergio si chiama a tavolino ma ho fatto dei richiami ad artisti che hanno lavorato su questo tema fondamentale del tavolo adesso a Venezia ce n'è un grande esempio alla fondazione Prada con le opere di Cunellis che sono sedi Gianni Cunellis che sono sempre hanno sempre le misure umane le misure dell'uomo sono antropometriche le opere di Cunellis tra le misure dell'uomo c'è quella di un letto di un doppio letto di una finestra di una porta e di un tavolo nonché di un foglio da disegno perché anche quello è commisurato all'uomo poi ho parlato di Mario Merz che ha fatto tanti lavori sui tavoli che definiva il tavolo una porzione di terra sollevata e anche del nostro amato Vettor Pisani che parlava di teatro da tavolo e che ha fatto in qualche modo nascere tutta la sua opera su un tavolo quindi anche questo tema del tavolo per Sergio è molto importante e credo che qua abbia contribuito appunto a creare spazio ma in questo modo quasi paradossale quasi per sottrazione adesso passerei la parola a Costantino c'ha il suo microfono perfetto sono dotato di microfono è dotato per cui passiamo la parola a Costantino Dorazio grazie mentre pensavo a quello che volevo dire quindi ho ripensato un po' al tuo lavoro mi è venuto in mente un discorso che insomma io penso da diverso tempo che non ho mai scritto ma insomma magari prima o poi mi capiterà questa potrebbe essere definita in un modo anticipo subito per me assolutamente scorretto pittura concettuale secondo me non esiste la pittura concettuale secondo me la pittura è tutta concettuale da quella più antica fino a quella più contemporanea ma rispetto al discorso pittorico quello che mi ha molto affascinato qui è tutto questo lavoro che tu fai sulle trasparenze sul ritorno su spesso forme simili come quella che notavamo rovesciata sull'idea che tu ti permetta di ritornare sulle stesse forme correggerle continuamente e e quindi in questo modo anche ricollegarti moltissimo a quello che i pittori hanno sempre fatto perché io sostengo che tutta la pittura è concettuale e che il tuo lavoro si inserisce perfettamente nella tradizione pittorica italiana non solo perché ogni tanto mi capita anche di fare lo storico dell'arte così come capita a Laura non so se lo sapete ma insomma sicuramente vi sarà capitato di sentir parlare dei ripensamenti e i ripensamenti sono detti anche pentimenti detti anche pentimenti non è male perché i pentimenti sono lo strumento attraverso il quale gli storici dell'arte spesso e volentieri certificano le attribuzioni o meglio le autografie delle opere d'arte se un'opera analizzata ai raggi X mostra dei pentimenti da parte di un artista è molto probabile che non si tratti di una copia a meno che non ci siano come nel caso della Gioconda in questo anno più volte mi capita di parlare di Leonardo in occasioni pubbliche casi in cui ci siano due versioni dello stesso dipinto con i medesimi pentimenti come la mettiamo stava lavorando su due tele contemporaneamente no molto semplicemente e questo anche secondo me è un tema molto interessante rispetto anche alla pittura contemporanea all'arte contemporanea il rapporto tra l'originale e la copia nel passato era completamente diverso rispetto a quello che definiamo noi la copia soprattutto se realizzata nel stesso contesto nella stessa bottega di un artista aveva sostanzialmente lo stesso valore dell'originale l'artista la vendeva come propria tant'è che molto probabilmente questa Gioconda che si trova al Prado e che mostra gli stessi pentimenti della mostra della Gioconda del Louvre è stata realizzata da un allievo di Leonardo contemporaneamente al maestro uno era davanti la Gioconda stava lì Leonardo stava qua e qui c'era il suo allievo il pentimento adesso faccio un salto di qualità rispetto al mio discorso che cos'è se non un atteggiamento processuale nei confronti dell'opera d'arte no perché tutta la pittura è concettuale perché nel momento in cui diamo al pentimento un valore fondamentale che addirittura aumenta il valore anche se volete commerciale culturale di un'opera di fatto la processualità di quel lavoro fa parte dell'opera d'arte fa parte del senso e del lavoro di quell'opera d'arte qui noi lo vediamo intorno a noi esplicitato diventa programmatico magari non ci hai mai pensato tutta questa roba però mi faceva piacere comunque condividerla con te anzi sapere anche qualcosa tu ne pensi no però è in fondo guardare a questi quadri e soprattutto guardare al metodo che tu utilizzi perché mi sembra di poter affermare che sia un metodo che non sia affatto una decisione estemporanea che tu prendi di fronte ai dipinti ma c'è una ricorrenza di questo lavoro sulla trasparenza sulla ripresa sulla riproposizione spostamento che poi è la stessa cosa che accade nei pentimenti ci sono dettagli che vengono semplicemente spostati teste che vengono girate dita che si spostano nella loro posizione allora la processualità di questa pittura io penso che sia profondamente questa tua pittura penso che sia profondamente classica profondamente legata proprio alla storia di come la pittura nasce di come nasce il lavoro di un artista e accanto a questo anche ci metto pure queste forme e seline che tu prendi riproponi allunghi restringi giri no che sono frutto di certe ossessioni che gli artisti hanno sempre avuto anche i più classici e che se uno poi va a studiare con attenzione i dettagli di molta pittura antica si ritrovano continuamente quindi mi piaceva poter dire che la tua pittura il tuo lavoro la tua pittura è profondamente legato alla storia dell'arte è legato a te ma anche a certe modalità che insomma la pittura anche più classica che ha avuto e che secondo me la rende sempre contemporanea molto bello questo discorso di Costantino io condivido da ex giovanissima storica dell'arte che ha vissuto nello studio di Maurizio Fagiolo dell'arco tanti discorsi sui pentimenti sui ripensamenti è molto bello anche perché effettivamente ci ha fatto quasi toccare con mano come anche davanti a un artista anche in un artista molto contemporaneo che comunque usa un linguaggio molto contemporaneo lui parla anche di ritratti autoritratti anche di paesaggi però c'è un modo comunque di dipingere molto contemporaneo un modo di allestire molto contemporaneo un modo di installare il lavoro molto contemporaneo però è vero che in Sergio Sarra c'è molto forte la memoria della storia dell'arte come in forme diverse c'è in tutti gli artisti italiani secondo me è una memoria fortissima è un DNA che non ci abbandona non è necessariamente una citazione non è qualcosa che uno deve esplicitare o che così deve evidenziare non c'è bisogno di evidenziarla perché ce l'abbiamo dentro l'artista italiano ce l'ha dentro ce l'ha dentro alla sua mano ce l'ha dietro i suoi occhi ce l'ha dentro la sua testa cioè e questo tutto questo è molto forte è molto molto forte e mi fa piacere che Costantino ce l'abbia ricordato in un modo anche così preciso che possiamo rintracciare nei quadri allora adesso chiederei di intervenire a Chloe Piccoli che tra l'altro appunto arriva come me da Milano e che però ha seguito il lavoro di Sergio Sarra tanto che ha scritto anche un testo per uno dei suoi libri e quindi diciamo comunque ha partecipato ecco questo questo è il libro che è molto bello sì è piccolo ma è molto bello secondo me questo libro e quindi in qualche modo è stata anche lei una compagna di strada di Sergio ha partecipato all'avventura creativa diciamo del suo lavoro quindi Chloe Piccoli grazie Laura grazie a tutti sono molto felice di essere qui sì è vero con Sergio abbiamo parlato molto di arte sia in occasione della realizzazione di questo piccolo libro quaderno sul disegno e sull'architettura su alcuni progetti immaginari che Sergio ha pensato su Pescara con Laura anche abbiamo parlato sia di Sergio che di arte italiana è qualche anno che con Laura parliamo di arte italiana e stiamo facendo questa serie di piccoli libri che si intitolano Paesaggio Italiano che sono delle conversazioni con artisti italiani giovani giovani e giovanissimi hai ragione Laura e quindi io partirei da questa mostra e da questo bellissimo libro che avete fatto e che su cui avete detto veramente moltissime cose Laura tu hai scritto moltissimo su Sergio anche Cesare ha fatto questa bella introduzione ma mi piaceva iniziare da questa foto che non so se tutti voi avete visto che secondo me è una foto abbastanza emblematica di Sergio Sarra artista e del suo lavoro perché è una foto in cui si vede l'artista all'interno dello studio per cui forse possiamo anche rifarci a proposito del classicismo a tutta la tradizione dei ritratti e autoritratti di artista nello studio all'interno del suo studio studio che Sergio ha costruito progettato e costruito personalmente per cui c'è lo spazio lo spazio dello studio che è aperto su la natura e si vedono le montagne di Pescara quindi c'è lo spazio della natura lo spazio dello studio l'artista e quindi un avvicinarsi lentamente gradualmente diciamo a una dimensione cosmica e cosmologica a fare parte di un universo Sergio Sarra attinge da una dimensione cosmica per arrivare gradualmente a riportare questa dimensione o addirittura ad analizzare in maniera ancora più specifica questa dimensione nel suo lavoro il suo lavoro è un lavoro che riguarda l'architettura che riguarda gli oggetti d'uso questi tavoli che abbiamo visto all'ingresso sono progettati da Sergio Sarra e io ci ritrovo le forme ce n'è uno che ha una curva e sono le forme che ritroviamo anche nei dipinti per cui man mano arriviamo attraverso l'architettura attraverso gli oggetti d'uso arriviamo al dipinto e il dipinto è stratificato in quelli che Costantino in questo momento ha definito dei pentimenti e in quelli che Nicolas Burriot come Laura ci ricorda nel suo testo ha definito fantasmi cioè qualche cosa che non si sa se sia cancellato o se stia affiorando dalla tela non si anzi non si sa perché il discorso è aperto ha diverse interpretazioni può essere una direzione che va dal fondo verso l'esterno o dall'esterno verso l'interno questa è la densità e la complessità del pensiero di Sergio Sarra che ha queste opere che restano delle opere aperte che ci parlano che non che non si esauriscono e Cesare Pietro Iusti nel in questo libro a proposito di questo di questa stratificazione parla di trappola la trappola perché è un un lavoro che che è intrigante che ti tira dentro e che ti tira sempre più dentro e che una volta che hai visto un elemento sei interessato ad arrivare sempre più in profondità dunque tutti questi questi aspetti del lavoro di Sergio Sarra concorrono a creare un corpus che noi vediamo qua in questa mostra davvero molto interessante anch'io volevo sottolineare anche il metodo di allestimento che Nicola Di Battista ha fatto prima di me proprio come un metodo come la prosecuzione della linea del quadro e quindi dietro tutto questo forse io e questa è una domanda che tengo per dopo per Laura Cherubini vedo di fondo il tema che non è così esplicitato sia per Laura che per Sergio forse questa domanda dell'autoritratto ho una sensazione istintiva netta che dietro questa dimensione spaziale sia specifica che più cosmologica sia legata alla storia dell'arte che al personale bellissimo quando Laura inizi il tuo testo citando quel lavoro in cui Sergio a sua volta cita le parole di Joseph Beuys e le parole di suo padre il personale e il collettivo quindi però dietro a tutto questo mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate voi Sergio se secondo te l'idea dell'autoritratto ci sia o no e Laura anche poi dicendo due parole su questo libro che mi sembra bellissimo anche da un punto di vista grafico con tutta questa copertina così sobria così veramente elegante mi piace molto il titolo escluse le cose che ho scelto di fare escluse le cose che ho scelto di fare con l'ironia che costrandistingue Sergio Sarra in realtà è un'affermazione assertiva è una dichiarazione di metodo quasi uno statement quindi seconda domanda per Sergio Sarra io vorrei che tu ci raccontassi che cosa intendi con questo escluse le cose che ho scelto di fare come io lancio tre domande perché voglio essere molto breve e far parlare l'artista e gli autori del libro Laura ha scritto un testo come di consueto nei suoi testi estremamente scientifico estremamente approfondito che ripercorre il percorso di Sergio Sarra lavoro per lavoro basandosi sulle fonti e sui testi quindi cita i curatori e i critici che hanno parlato di Sergio da Bonito Liva a Giacinto di Pietrantonio a Paolo Ogolini Pietro Iussi stesso Teresa Macri Ludovico Pratesi e perdonatemi se ne salto alcuni cita anche me ma e in questo suo percorso che è scandito da dei paragrafi che sono dei paragrafi quasi tematici si conclude con dico a te Sergio e questa è una citazione ed è una citazione che apre a un discorso importante che Laura tu fai qui a conclusione del tuo testo e che vorrei che ci spiegassi che cosa significa questo dico a te Sergio mentre invece a Cesare io chiederei di si si prendete appunti perché Cesare questa questa figura della trappola a me ha intrappolato e quindi vorrei ed è molto interessante e si potrebbe se hai voglia approfondirla ecco io con questo passo la parola a chi vuole rispondere ecco Laura allora ecco ringraziamo Chloe Piccoli per questo intervento molto interessante e che appunto come dire non ci lascia passivi ma ci vuole attivi perché ci pone un sacco di domande ma riguardo alla definizione di autoritratto io penso che Chloe abbia centrato diciamo un tema fondamentale del lavoro di Sergio poi risponderà meglio lui però credo che in qualche modo questa mostra sia una forma di autoritratto e forse e forse anche questa modalità di presentazione questo modo di esporre questo modo di allestire facendo il vuoto al centro nel campo più grande e ritirandosi ai bordi è un auto trattino ritrarsi nel senso che proprio nel momento in cui Sergio si ritrae fa come dire un passo indietro diciamo rispetto allo spazio rispetto alla mostra rispetto alla sua opera in realtà ci sta dando un suo indiretto autoritratto quindi credo che la definizione sia sia molto centrata rispetto al titolo che è un vero e proprio statement è ragione Chloe risponderà a Sergio anche lì però devo dire che io l'ho vista come una dichiarazione di come dire contro l'intenzionalità diciamo così cioè una una posizione contro un eccesso di forse di autorialità e di intenzionalità che c'è a volte nell'arte per cui anche questa anche questo statement è molto in linea con l'auto ritrarsi anche qua cioè farsi indietro per definirsi in qualche modo quanto a dico a te Sergio e chiaramente viene da viene dal titolo di un libro di Savinio che è dico a te virgola Clio Clio era la musa dell'epoca poi diventata la musa della storia nota a tutti come la musa della storia e Savinio ha dedicato un libro che è un libro che ha anche per scenario proprio l'Abruzzo quindi io sapevo che Sergio amava questo libro poi ne avevamo anche un po' parlato quando c'è stata questa sua bella mostra in Abruzzo quasi un anno fa all'Abbazia di Propezano che era un po' dedicata a questo libro di Savinio diciamo e quindi viene da lì però certamente è anche un dico a te Sergio cioè tra te e me è un dialogo che è iniziato tanti anni fa quindi lo apostrofo con questa frase di Savinio anche come dire proprio per tirarlo in ballo per rinverdire il rapporto che c'è da tanti anni tra me e Sergio tra me e le opere di Sergio di cui anche avevo scritto diverse volte e non so se Cesare vuole rispondere subito sulla trappola o se risponde più avanti sentiamo Cesare sulla trappola poi sentiamo Sergio sull'autoritratto e il titolo allora la parola trappola intanto mi piace perché comincia per tra al di là della sonorità che è molto bella perché è proprio sensuale c'è tutta una cosa di tattile orale il tra è diciamo dall'idea dello stare in mezzo a qualcosa quindi l'idea di un'indecisione di una posizione mobile di una incertezza anche e anche di un pericolo nel senso che questo stare in mezzo infatti la trappola è pericolosa rischia di metterti in qualche modo in una condizione di difficoltà però questo stare in mezzo per esempio fra la figura lo sfondo tra il contenitore e il contenuto tu parlavi e sono molto d'accordo del fatto che i tavoli no ricordano anche le forme stesse che Sergio traccia e che le forme che stanno dentro e quindi lì c'è il contenuto e il contenitore che si invertono e questo stare in mezzo che cosa produce produce una consapevolezza che non ha tanto a che fare con il contenuto del discorso ma con le sue forme con la grammatica con il modo in cui il linguaggio si esprime e qui parliamo del linguaggio della lettura stavo guardando quel neon lì che rispetto a tutti gli altri che sono funzionanti bene flickers come si dice flickera flickera pulsa e sta fra l'acceso e lo spento allora rispetto a tutti gli altri che sono normali noi lo notiamo e praticamente quello ci racconta qualcosa di più nella trappola in cui ci piglia ci racconta qualcosa di più del fatto che per esempio la luce può essere accesa ma può anche essere spenta se noi lo diamo per scontato che è sempre accesa non siamo dentro quella trappola quindi la trappola è il rischio dell'ipnosi è il rischio ovviamente del perdersi del caos però allo stesso tempo è anche la possibilità dell'emancipazione dell'osservatore è l'osservatore che guarda non più un contenuto detto dal linguaggio ma una modalità attraverso la quale il linguaggio si esprime e io credo che l'arte abbia questo compito abbia il compito non di sedurre attraverso la sua bellezza ma di renderci consapevoli di come la bellezza è alla portata delle nostre possibilità espressive e quindi di come il linguaggio ci appartiene non ci domina ci appartiene lo possiamo usare è una nostra è uno strumento è una possibilità quindi in questo senso la trappola è un rischio è un rischio perché ovviamente il rischio della seduzione c'è sempre il rischio dell'ipnosi c'è sempre ma è anche un'opportunità è la possibilità appunto di quel movimento processuale di cui stavate parlando che ovviamente anche in questo lavoro di Sergio c'è e chiaramente ma c'è anche appunto in questa incertezza che continuamente ed evidentemente insomma ci viene proposta per esempio fra la figura e lo sfondo fra il contenitore e il contenuto fra la cornice e il quadro fra lo spazio e l'allestimento cioè soprattutto una serie di spazi che ci rendono disposti che ci vengono dati come una possibilità siamo artisti o non artisti non importa però sono una possibilità reale che è offerta a chi guarda e questo secondo me è un atto di grande generosità che gli artisti non solo Sergio che gli artisti in generale possono fare bellissima bellissima questa risposta di Cesare Bruna impressionata vedo dalla risposta adesso vorrei sapere se se sì certo perché questa risposta di Cesare mi ha fatto pensare un'altra cosa riguardo alla trappola una trappola linguistica il linguaggio la trappola presuppone la messa in atto di strategie e quindi la attivazione del non chiamiamolo spettatore perché non ci piace chiamarlo spettatore chiamiamolo individuo no? l'attivazione ancora di più di chi sta di fronte all'opera in questo caso stiamo parlando del lavoro di Sergio secondo me questo è molto vero poi vale anche per altri artisti però in questo momento l'attivazione dell'individuo di fronte all'opera è un tema importante che credo sia anche nei nei lavori di Sergio allora effettivamente diciamo la trappola è qualcosa che non si vede ma che ti fa cadere dentro quindi è come è come se noi fossimo già caduti in qualche modo nella trappola volevo sapere se Sergio però è giusto quello che diceva Chloe ora volevo sapere se Sergio vuole rispondere subito sul tema autoritratto e titolo o se passiamo la parola al nostro editore a cui devo fare veramente i complimenti perché ha fatto un lavoro eccellente Beniamino De Liguori grazie questo catalogo è stato davvero in qualche modo un dono che Sergio ha fatto alla casa editrice e per questo oltre a ringraziare lui ringrazio anche Nicola Di Battista che ci ha presentati ma perché davvero come dire il nostro lavoro è stato molto poco perché era talmente chiara l'idea anche che aveva Sergio per questo catalogo e le scelte come dire così raffinate anche allo stesso modo allo stesso tempo come dire graziate che credo corrispondano non solo come dire a un gusto per per l'oggetto editoriale ma che almeno io personalmente ritrovo anche nelle cose che stanno qui intorno e nel modo stesso di Sergio con cui Sergio si è presentato a me qualche qualche mese fa e del perché è importante per noi invece è stato davvero un dono che Sergio si ha fatto dirò due cose molto breve che spero restituiscono un po' il senso del lavoro che la casa editrice sta cercando di fare da otto anni da quando questo marchio storico che è Edizioni di Comunità ha ripreso dopo oltre dieci anni di inattività pubblicare ed è un po' credo la ragione per la quale ho accettato volentieri e anche appunto dicevo con gratitudine la proposta che ci è stata fatta da Sergio è un po' nelle cose l'ho ritrovata nelle cose che sono state dette che sono state dette adesso ovvero come dire di quanto questo lavoro rappresenti un come dire punto identitario fra tante tante cose e la casa editrice Edizioni di Comunità rappresenta una storia un'identità alle spalle che chiaramente è quella olivettiana perché fu fondata da Adriano Olivetti in cui tutte queste cose riuscivano in un'armonia anche un po' oscura a stare insieme e grazie a Nicola con cui stiamo da qualche mese lavorando alla rivista L'Architetto e adesso grazie anche al catalogo di Sergio abbiamo riaperto questi percorsi che hanno alla fine un punto di incontro in questo aspetto in qualche modo collettivo anche comunitario di condivisione che poi è la cosa che Sergio ha detto tante volte mi ha appassionato dal primo incontro con lui e sono contento che è stata mostrata la foto della casa in Abruzzo perché all'inizio prima di vedere il lavoro di Sergio è una delle prime cose che ho visto e ho pensato all'epoca che sarebbe valsa la pena fare questo catalogo anche solo per essere invitato un pomeriggio in Abruzzo a vedere il suo studio con le mie figlie e mia moglie con le quali siamo alla ricerca di un posto esattamente come quello in cui l'elemento di artigianalità e di creatività è così limpidamente interconnesso con l'elemento naturale e il lavoro di edizione di comunità ambisce in qualche modo a rimettere insieme tutte queste discipline noi ci occupiamo prevalentemente delle cosiddette scienze umanistiche delle scienze sociali pubblichiamo saggistica saggistica di fatto e mentre Nicola Di Battista parlava e raccontava di quanto l'architetto di fatto sia diverso come dirà abbia una responsabilità diversa rispetto l'artista con chi poi verrà dopo di lui pensavo a un libro che abbiamo pubblicato qualche anno fa che invece in qualche modo smentisce ma conoscendo avendo studiato la personalità di chi ha scritto questa cosa poi lo capisco perché questa affermazione che era Richard Noitra che invece era uno dei principali allievi di Frank Lloyd Wright che obbligava i suoi committenti forse avrei dovuto fare così con Sergio a proposito della visita in Abruzzo Richard Noitra invece obbligava i suoi committenti a inserire una clausola nel contratto per cui lui per un periodo di almeno dieci anni successivo alla consegna della casa si riservava il diritto senza avvisare di andare a verificare che nulla fosse stato come dire toccato all'interno della esatto esatto no però appunto poi vedendo anche la mostra come è stata allestita parlavo prima con Sergio delle cornici questo bellissimo anche allestimento per la per la per la per la posa sulle pareti invece questo secondo me dà un po' la misura quanto poi come dire quando c'è questo aspetto di artigianalità dietro questi lavori si conserva anche la come dire la prospettiva più ampia l'orizzonte più ampio anche quello direi civile sociale che ha un'opera e in questa riconduzione che stiamo tentando di fare del catalogo e dell'identità della casa editrice verso come dire la sua storia e anche spero e mi auguro il suo futuro ho pensato che anche per togliere un po' da imbarazzo uno si nasconde un po' sempre dietro i maestri e poco tempo dopo aver chiuso il lavoro sul catalogo di cui ripeto ma non è non è falsa modestia davvero è stato fatto praticamente tutto dal dal gusto e anche come dire dall'intuizione dall'inventiva di Sergio ero in Sardegna per una conferenza al museo di Costantino Nibola a Orani e ho letto una cosa che aveva scritto l'ultimo grande come dire direttore editoriale di questa casa editrice che era riuscito a tenere insieme come dire tutti questi questi piani che era Renzo Zorzi a proposito di un altro a proposito di un altro artista che ha lavorato poi tanti anni all'Olivetti che era Giovanni Pintori aveva scritto per associazioni di idee senza uno scopo preciso avevo letto questa cosa che mi era anche confortato nell'idea di avventurarci in una nuova in una nuova impresa editoriale che poi spero abbia abbia un futuro come quella che appunto ci ha concesso Sergio senza come dire appunto ripeto sono delle associazioni libere non c'è una ovviamente una comparazione però ho letto questa cosa mi aveva molto colpito e diceva Renzo Zorzi a proposito di Giovanni Pintori era molto amico di Costantino Nibola che anche lui lavorò per Olivetti nella Quinta Strada a New York tenace come un sardo egocentrico dal carattere impossibile pittore lui sì in segreto appassionato di barche e di mare portò nel codice visivo Olivetti la limpidezza la simplificazione l'essenzialità e il colore da cielo primaverile appena spazzato da un temporale e questo mi ha dato un po' la misura infatti noi siamo un editore e come dire la casa di Trici cerca di essere un editore come si dice impegnato su alcuni temi di attualità e questo invece mi ha riportato alla misura di quanto anche occuparsi dal nostro punto di vista e pubblicare lavoro come quello di Sergio significa come davvero contribuire o provare a contribuire a una ricomposizione di quella che il nostro primo editore Adriano Olivetti si chiamava una nuova umana civilitas per questo comunque davvero ringrazio Sergio ringrazio anche di nuovo Nicola di averci messo in contatto è difficilissimo parlare dopo i vostri interventi che sono complessi bellissimi fin troppo lusinghieri nei miei confronti quindi vi ringrazio un po' mi è difficile dire delle cose su me stesso sul mio lavoro non mi piace molto però rispondo alla domanda per esempio sul titolo di Chloe Piccoli e escluse le cose che ho scelto di fare è una abbastanza precisa dichiarazione riguardo al mio metodo di lavoro che diciamo è desunto dal fatto che mi sono reso conto che qualsiasi cosa decidessi di fare non mi riusciva tutto ciò in cui inciampavo proprio uso questo termine o in qualche modo mi accadeva mio malgrado riguardandolo bene poteva far parte del mio lavoro questo è un po' il mio unico processo diciamo il mio unico metodo di lavoro che già nella frase citata da Cesare nel suo bellissimo testo introduttivo avevo scritto per il catalogo della galleria Alice cioè meno mi agito più trovo questa è veramente un po' una cosa che tengo a specificare perché penso che sia impossibile mettersi a fare un quadro decidere di mettersi a fare un disegno un'opera più in generale è una cosa che in qualche modo io almeno sto lì in questo studio che ho costruito intorno a questa attesa che attesa intorno a questo momento che più o meno mi può capitare durante una giornata può anche non capitarmi quindi quei pentimenti di cui ha parlato così bene Costantino in realtà sono anche dei diversi momenti in cui ripenso a quello che ho fatto nei giorni precedenti o anche mesi prima su un disegno su un quadro e secondo il momento che vivo può portarmi a ricoprirlo però quella traccia che è sotto non la smentisco mai del tutto non come strategia che è un po' una frase che potrebbe essere fraintesa cioè potrebbe diventare veramente un processo che uno applica e allora gli si potrebbe dare anche un'accezione negativa decorativa invece è proprio un fatto che a me interessa concettualmente cioè quella traccia per me è importante per la traccia successiva quindi non può scomparire del tutto altrimenti quel quadro non avrebbe per me quella stratificazione necessaria per poter forse alla fine uscire dallo studio e essere esposto per esempio come in questo caso in uno spazio in cui sempre per non smentire il titolo non ho costruito una mostra site specific se non raccogliere una serie di momenti diversi di opere che possono essere appunto autoritratti paesaggi gli iceberg o altre cose che in quel momento comincio a ragionare come mettere insieme rispetto anche allo spazio che mi si è offerto diciamo allora forse l'unico processo che uso è proprio questo cioè stare in studio e mettere quel ciocco di legno nella stufa e stare lì stare lì e forse per questo ho disegnato questa casa studio perché per me diciamo arte e vita non sono non possono essere separati non potrei mai uscire la mattina vestirmi e andare in studio cioè questa è una cosa che non potrei mai fare posso solo restare dove sto fare delle cose senza decidere una scaletta precisa e in mezzo a questo tempo cercare una piccolissima traccia e ogni tanto arriva ma non posso decidere quando né che tipo di riuscita dargli questo sarebbe ancora più per secondo me un atteggiamento veramente ingenuo cioè chiunque la mattina si alzerebbe con l'intenzione di fare un capolavoro questo è impossibile cioè arriva quando anzi forse l'atteggiamento più è distratto nel mio caso e più è fertile la giornata non mi ricordo la seconda domanda di Chloe Piccola ci hai regalato una dichiarazione di poetica pazzesca io dico che vale per tutto come dice l'altra però se lo puoi dire le domande erano una sul titolo e l'altra era sull'autoritra l'autoritra l'autoritra ha un po' risposto però in realtà io penso che tutto sì tutto quello che disegno credo di averlo diciamo assorbito nei primi 5-6 anni di vita quindi sto restituendo un po' quelle immagini che da bambino mi hanno molto impressionato o in qualche modo mi sono piaciute o mi hanno colpito per altri motivi anche di violenza oppure particolare bellezza così quindi non sono un cioè in tutti i miei lavori c'è una altissima dose come Laura sa molto bene autobiografica quindi di autoritratto ogni tanto proprio bisogno di farne uno intitolarlo così self portrait però anche quello tratto da tracce che non c'entrano niente se non trovate all'interno di accadimenti di vita comune come quello lì per esempio che è un autoritratto ma in realtà è la è un foglio planimetrico che mi è scivolato sul tavolo mentre stavamo facendo con mia moglie Elisabetta una mi ricordo comprando vendendo una particella mi sono accorto che era un profilo che un po' mi somigliava ho coperto un quadro che non mi cominciava però per alcune cose non ho voluto coprire del tutto e ho ridisegnato esattamente quelle particelle catastali ecco questo è anche un po' il mio metodo cercare anche un po' di copiare quello che mi capita di vedere e portarlo dentro l'arte cioè dentro il mio metodo almeno che Sergio ha risposto nonostante non non volesse rispondere diciamo nonostante la reticenza ha risposto allora io vorrei dire ancora due cose ci sarebbero tante cose da dire però vorrei dire ancora due cose io partendo un po' a ritroso intanto siccome ho Bruna esposito qui davanti vorrei ricordare una piccola cosa una piccola mostra secondo me molto preziosa a cui io insomma ho partecipato in qualità di autrice del testo Sergio e Bruna Recanati si trattava di una cosa molto piccola ma un piccolo gioiello avevano fatto dei lavori ognuno per conto suo e dei lavori insieme allora i lavori ognuno per conto proprio di Sergio forse sono anche qui uno no non ce n'è nessuno di quelli di Recanati erano comunque un interno e un esterno quindi un paesaggio e un interno quindi di nuovo questo discorso di come dire quello che si vede dalla finestra quello che si vive all'interno dello studio erano due quadri molto belli era all'interno dello studio quindi si ricollega a tutto il discorso che abbiamo fatto anche con Chloe dell'artista dentro al suo studio di quella foto che Chloe ci ha mostrato che anche a me piace molto infatti avere intitolato il testo a tavolino veniva da quella foto e poi di quello invece dell'esterno diciamo che era quello un po' che legava al luogo a Recanati l'infinito c'era questo così avevo trovato dei versi poetici di Leopardi che poi è un poeta che ho letto molto che ho amato molto che per certe cose sono anche a memoria e le avevo citate per Bruna e Sergio Bruna aveva fatto un lavoro anche molto bello che era un video con una persona che recitava nella lingua dei segni l'infinito quindi era molto poetico diciamo era un lavoro sul linguaggio e erano sia i due quadri di Sergio che il video di Bruna erano molto belli però poi a me quello che mi aveva colpito molto era il lavoro che avevano fatto insieme erano una serie di disegni che loro hanno fatto a quattro mani e quello che disegnava in quel momento era bendato quindi questi disegni sono bellissimi e in qualche modo si riallacciano a questo discorso che Sergio sono anche qualcuno in catalogo e si riallacciano al discorso che Sergio faceva adesso sul titolo cioè quasi che il risultato migliore venisse quasi alla cieca non vedendo diciamo in qualche modo non vedendo ci sono altri altri interventi allora ringrazio tutti Sergio e tutti gli intervenuti perché avete veramente attraverso i vostri discorsi dato chiarezza al lavoro di Sergio proprio che siete entrati in sintonia con una straordinaria lettura molto pungente molto precisa sono venute fuori degli argomenti molto belli riguardo quello della trappola per dire mi piace molto come piace molto quello del pentimento l'addizione e la sottrazione la pittura è addizione e sottrazione quindi il lavoro di Sergio è proprio in questa dimensione imponderabile indefinita e misteriosamente imprendibile e questa è una cosa straordinaria poi un'altra cosa la trappola è un discorso fatto dalla canne riguardo alla Meninas di Velasquez un'opera d'arte quando riesce ad essere trappola per lo sguardo è qualcosa di straordinario non accade quasi mai ma quando accade è una cosa quindi questo discorso della trappola è una cosa straordinaria per la tua pittura questa tua fluidità fra interno ed esterno fra dentro e fuori questa continuità proprio mai interrotta è una cosa bellissima fra superficie e profondità ci sono altri interventi o domande di qualche genere qualcuno vuole dire ancora qualcosa no ma bruna secondo me neanche se glielo lancio lo prende no vabbè però dovevo essere avvisato due anni fa via email no vi prego che devo dire per me Sergio è volante 1 con l'esperienza che avete avuto dei disegni fatti alla cieca ripassiamo passo ci riprovo sui disegni Cosentino insiste vabbè io sono volante 2 è stata una bellissima esperienza presso inaspettata non programmata non progettata è successa ed è stato un momento di grande intensità eravamo nella galleria quando le abbiamo realizzate eravamo alla galleria di Pio Monti eh sì lei è testimone sì è assolutamente testimone di questa specie di serissimo gioco che è avvenuto occhi chiusi occhi chiusi chiudi gli occhi non aprire gli occhi reciprocamente scherzando non aprire gli occhi e l'idea appunto è stata quella di seguire il tema del paesaggio il tema dell'infinito e ognuno di noi aveva un compito ma rigorosamente occhi chiusi e poi la magia quando apri gli occhi lo guardi e dici wow molto meglio di viene molto meglio di come prima di tutto di come non ti aspettavi e poi di come avresti fatto appunto come tu hai detto ad occhi aperti e da solo da solo e anche questo è il lato diciamo pratico il lato più diciamo personale è che insomma si 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 innesca una fiducia che è totale totale proprio totale sia nell'uno nell'altro nell'attimo nella casa in tutto con lei che era davanti insomma e sono momenti direi quasi di magia ecco direi che abbiamo chiuso molto bene ricordando questi disegni alla cieca e se non ci sono faccio l'ennesimo appello a fare interventi o domande se non ci sono forse possiamo salutarci qui e chiudere così e che un po' ci dispiace questa bella mostra grazie grazie grazie